Vado a Reggio Calabria e potete venire a Reggio Comics se volete acquistare il mio libro, se volete potete prenderlo e io vi faccio dei disegnini brutti, se non potete, potete venire anche E l'8 dicembre ha la media terme che non mi sembra un nome di una città vera ma di un complesso termale, però probabilmente è una città Comunque ci vediamo al sud